Salve sono Fiorello. Sono giovane. Lo sappiamo, hai 50 anni e vai in moto a dicembre. Con le varie che corti. Sei così giovane che il tuo manico è un pediatra. Ah Fiore, eppure noi siamo abbonati in Infostrada, ma mica fanno tutta questa manfrina, no? Ma se sei così giovane, ma perché ne avresti le scale? Con Infostrada vivi meglio. ADSL senza limiti e telefonati a zero a soli 19 euro e 95 al mese, fino al 2013. Parlano di me? No. Chiama subito il 159.